Nei giorni scorsi ha partito il censimento dei numeri civici e degli edifici di Cesena. Le operazioni, che si concluderanno a metà febbraio 2011, coinvolgeranno circa 26.000 edifici e 30.000 numeri civici distribuiti esclusivamente nei centri abitati del territorio comunale. A svolgere il censimento sono 20 operatori selezionati e formati dall'Ufficio Statistica, muniti da apposito cartellino di riconoscimento. A loro il compito di compiere le rilevazioni che prevedono la raccolta non soltanto delle informazioni che consentono di associare ogni edificio al proprio indirizzo, ma anche alcuni dati sulla tipologia dell'edificio, sulla presenza di interni abitativi o non abitativi, sulle caratteristiche costruttive degli immobili. Per effettuare la rilevazione sul territorio il Comune di Cesena ha deciso di ricorrere a tecnologia all'avanguardia. Gli addetti infatti utilizzano nel loro lavoro palmari dotati di mappe digitali su cui registrare le varie informazioni. La rilevazione dei numeri civici costituisce un passaggio importante in vista del censimento generale della popolazione del prossimo anno. Per la sua realizzazione infatti sono previste rilevanti innovazioni tecniche e organizzative. In questo ambito l'esatta corrispondenza di indirizzi e numeri civici rappresentano strumenti indispensabili per la localizzazione puntuale sul territorio delle unità statistiche.